Grazie a tutti, diamo il via al nostro momento di confronto, noi quando parliamo di alimentazione, di stili di vita alimentari, di cibo diciamo che, e stamattina è stato detto più volte, la nostra ossessione del periodo, lo sapete, è il costo, sono i prezzi, quanto ci fa soffrire comporre il carrello della spesa, siamo tutti dei consumatori che stanno diventando sempre di più attenti, c'è questa inflazione che le banche centrali, questo è il tema di cui io parlo tutti i giorni a Radio 24, fanno davvero fatica a combattere, lo stanno facendo a colpi di aumenti dei tassi di interesse che poi è un altro grande grattacapo importante per l'industria di ogni tipo. La crisi energetica è stata richiamata anche questa mattina dalle presidente Ferré, come sapete è stato il tema e lo è ancora perché non è che si è ridimensionata, insomma ancora qualche effetto a vario livello dell'economia, appunto lo abbiamo, si è abbattuta su tutte le filiere che peraltro erano già impegnate in questo importante processo di transizione e hanno dovuto gestire anche questa importante problematica. Poi ci sono anche altri temi da affrontare, magari con i miei ospiti questa mattina proverò a toccarli un po' tutti. Il tema del cibo si confronta anche con un processo demografico importante, lo scorso novembre nel mondo siamo diventati 8 miliardi e quindi immaginate che cosa significhi portare un piatto sul tavolo di tutti in un panorama che naturalmente vede sempre di più, gli scenari sociali ce lo raccontano, un ampliamento delle diseguaglianze sociali che è un altro tema che tutti gli economisti e non solo appunto stanno provando a descrivere, a affrontare appunto e ad affrontare. Ci sono nuovi stili di vita alimentare che caratterizzano le abitudini di milioni di persone, abbiamo tutti a che fare, non so se a voi è toccato o con un'intolleranza, con un'allergia, con un problema appunto che ci obbliga a rivedere quello che consumiamo quotidianamente. Poi le diete, le mode, insomma nuove tipologie di alimenti lo dicevo prima, che assumeremo e produrremo. E allora che cosa sta cambiando, come dobbiamo analizzare e studiare tutto quello che succede, i vari interlocutori del settore come sono chiamati a dare il loro contributo a questi grandi cambiamenti, questa mattina avrò il piacere di parlare di tutto questo con i nostri ospiti. Non c'è bisogno di presentarvi Mauro Alatini, neopresidente di Coppa Italia, che vi invito di nuovo a risalutare con un applauso, già amministratrice delegata appunto di Coppa Italia. E poi abbiamo intervellato due osservatori, osservatori importanti di questi trend, ognuno per il proprio ruolo, Mario Calabresi, giornalista, scrittore, oggi direttore di Cora Media, che è una società che produce una montagna di podcast, chissà se anche nel settore alimentare, degli stili di vita avete già fatto qualcosa, io li guardo tutti, questo mi è sfuggito, magari c'è, faccio anche una brutta figura, già direttore di Repubblica, insomma già inviato negli Stati Uniti per Repubblica, Mario ha fatto un sacco di cose, oltre che ospita anche abbastanza frequente di Radio 24, Bazzica anche i nostri studi e ci fa molto piacere. E poi il professor Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, impegnato in prima linea in particolar modo sui temi dell'economia civile, anche lui insomma ci capita di incontrarci molto spesso nei vari dibattiti legati a 360 gradi appunto ai temi della sostenibilità. Allora, proprio per darci un quadro di scenario, io con il professor Becchetti inizierei, quindi gli faccio fare l'economista, perché vorrei che ci raccontasse un po' questo tema dell'inflazione. Allora, tanto recentemente in radio tanti ascoltatori, ma lo stanno facendo da più di un anno, ci stanno facendo notare come c'è questo tema della shrink flash, le diamo un sacco dei nomi e quindi allo stesso prezzo si va a comprare un bene che però è contenuto in confezioni un po' più ridotte, ma mi si è ristretto il barattolo, ci raccontano. Poi ne abbiamo altre, abbiamo la headflation, quella da calura, addirittura me l'ha insegnata lei, io neanche la conoscevo, quindi sono andata a vedere di che cosa si trattasse. E allora, in questo scenario di riduzione dei consumi generali, professor Becchetti, noi negli ultimi anni abbiamo avuto vari momenti di crisi che in qualche maniera si sono abbattuti sul carrello della spesa, in questo caso però con un'inflazione che nei mesi passati ha superato più spesso la doppia cifra, adesso ci stiamo un pochino ridimensionando, ma è ancora molto alta, insomma questo test del carrello della spesa in questo momento è particolarmente significativo. Che cosa dobbiamo raccontare dell'inflazione che ancora non abbiamo raccontato? Diciamo, facendo interviste quasi ogni giorno e parlando sempre di inflazione è difficile abbiamo raccontato quasi tutto, però alcune cose da ricordare, innanzitutto l'inflazione è un'imposta regressiva perché mi ricordo vent'anni fa facevamo uno studio per calcolare l'effettivo tasso di inflazione di ogni classe di reddito considerando quello che era il paniere di quella classe di reddito, noi sappiamo che si chiama la legge di Engel, chiaramente più si è poveri e più aumenta la quota di beni alimentari sul totale della spesa, quindi non abbiamo tutti lo stesso tasso di inflazione, il tasso di inflazione dei citi più poveri è più alto, perché soprattutto in questo momento cosa trae nell'inflazione? Il prezzo dell'energia e il prezzo dei prodotti alimentari, mentre, e quindi lodevole anche il lavoro che fa COP, ogni tanto c'è l'annuncio, dice ma noi siamo i primi, abbiamo provato a abbassare i prezzi eccetera, mentre ovviamente i prodotti ad alta tecnologia sono naturalmente deflattivi, abbiamo a guardare il costo di un computer per unità di CPU, diciamo, aggiustato per la qualità, che è in calo continuo. Quindi innanzitutto c'è questo aspetto nell'inflazione. Poi l'inflazione che stiamo vivendo adesso è un'inflazione particolare, io che sono ovviamente, cerchiamo di guardare lontano noi professori, un fan delle rinnovabili, non mi manco sempre di sottolineare il fatto che noi abbiamo subito due ondate inflattive, quella di fine anni 70 e quella di adesso, che essenzialmente dipendono dalla nostra dipendenza dalle fonti fossili. Il fatto di dipendere dalle fonti fossili ci ha portato prima l'inflazione petrolifera di fine anni 70, che poi ebbe un seguito con la spirale per questi salari e adesso questa che è nata alla fine del Covid, ma che poi con il gas ha avuto un'esplosione enorme. Quindi la prima cosa che andrebbe fatta è che molti pionieri hanno cominciato a fare da subito, perché io conosco tante imprese che si erano portate avanti col lavoro, hanno cercato, abbiamo sentito anche oggi, l'ha detto il Presidente, aumentare la quota di energia autoconsumata, lo avevano fatto da prima e quindi hanno avuto un costo dell'energia più basso, non hanno dovuto trasferire questo costo dell'energia sui prezzi dei prodotti, probabilmente avremmo avuto meno inflazione. Faccio il caso della Francia, la Francia ha 4 punti e meno di inflazione rispetto a noi, perché? Perché la Francia ha una dipendenza meno delle fonti fossili, per il nucleare e per... quindi questo è un dato oggettivo, quindi noi dobbiamo, abbiamo un'occasione straordinaria, è uscito questo rapporto legambiente Greenpeace, che parla di un'Italia 100% rinnovabile, già nel 2035, la butto lì pesante, e ovviamente è l'obiettivo di tutti i paesi del mondo, la Cina lo ha come obiettivo nel 2060, ma ce l'ha anche la Cina come obiettivo, e questo vuol dire per noi una, diciamo, una minore, diciamo, dipendenza da queste ondate inflattive che possono arrivare e che non dipendono da noi. Adesso, notizia di stanotte, appunto, però è stato questo che ha portato, e quindi questo è un punto importante. Poi questa cosa dell'inflation è molto interessante perché è proprio la Banca Centrale Europea che ci ha detto con un working paper, prima che poi le cose arrivano alle decisioni istituzionali, ne passa, però è ricerca fatta dentro, diciamo, convalidata dalla Banca Centrale Europea, che ci dice che almeno nei prossimi anni ci dobbiamo aspettare almeno un punto di inflazione che derivi dai prezzi dei prodotti alimentari, perché? Beh, tutti noi sappiamo, studiando queste cose, che quando c'è una grande gelata, quando c'è una siccità, eccetera, in un paese, in Brasile, ok, i prezzi salgono, no? Perché c'è una riduzione dell'offerta. Chiaramente questo un po' si riassorbe perché il mercato è grande, magari c'è un problema lì, però dall'altra parte aumenta la produzione. Se però gli eventi climatici estremi aumentano, come sta accadendo con il problema di riscaldamento globale, allora il rischio che tutto questo abbia degli effetti significativi sui prezzi c'è. Ricordiamoci la storia nostra, 2022, grossa siccità, Italia, Francia, problemi sull'offerta. Quest'anno prima la siccità, poi l'alluvione, la Romagna, e quindi ecco, il rischio è che con l'aumento degli eventi climatici estremi ci sia pure questa componente di inflation. Poi certo, il rientro è lento, io dico, è come quando finisce il vento, non è che il mare si calma subito, le onde continuano per un po'. E che cos'è questo? Il problema è che un prodotto alimentare che viene venduto oggi è stato prodotto magari nel corso di un anno, quindi ha dovuto pagare tutti i costi, energia, fertilizzanti, serre, quello che sia, e quindi chiaramente si porta dietro questi costi nei prezzi finali. Magari c'è anche un po' di recupero, di margini che si sono persi prima, eccetera. E quindi chiaramente c'è una persistenza, quindi il grande tema poi oggi di cui discutiamo sempre è quanto la medicina deve essere forte, no? Cioè fino a quando dobbiamo alzare i tassi? Io sono un po' più colomba che falco perché ritengo che, ripeto, questa non è un'inflazione da domande, soprattutto in Italia, prima dell'inflazione l'Italia aveva un grande equilibrio, l'Europa aveva un equilibrio, cioè aveva un eccesso di liquidità pazzesco per il quantità di vising, ma questa liquidità stava dentro le banche perché la regolamentazione bancaria italiana, europea, molto severa, più severa di quella americana, e quindi le banche avevano, quindi si teneva il sistema. Poi, ripeto, c'è stata questa cosa, però ecco, la questione ovviamente se ne discute, adesso vedremo quanti saranno gli aumenti, ma chiaramente la medicina va dosata il giusto, la Schnabel l'altra volta ha detto è meglio di più che di meno, no, è meglio, dobbiamo fare il giusto perché di più, il di più, ecco questa è l'ultima cosa che vorrei dire, quali sono le conseguenze dei tassi alti? Beh, intanto i mutui, i variabili, le famiglie, e poi noi non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo la banca centrale, noi e gli Stati Uniti, siamo la banca centrale del resto del mondo, cioè cosa succede purtroppo quando c'è il ritorno dall'inflazione, è successo alla fine degli anni 70, i paesi, Fed e cosa, alzano i tassi, si rivalutano le valute dollaro ed euro, si svalutano le valute dei paesi poveri ed emergenti, i paesi poveri ed emergenti sono tassi di interesse reali che schizzano, tasso di cambio che va giù e cominciano i default, quindi diciamo che ci sono una serie di conseguenze ma vanno considerate. Default è che possono essere anche familiari, sono anche responsabili da loro ovviamente, perché il tema è che poi, esatto, occorre sicuramente aggiustare, riequilibrare i temi macroeconomici, poi però i redditi non aumentano, come dicevamo, e ci sono le ricadute che abbiamo già indicato questa mattina, il carrello della spesa che soffre, i consumi appunto che langono e di conseguenza salta tutto l'equilibrio macroeconomico generale, perché poi dai consumi ovviamente discende tutto, il lavoro di tante aziende sul territorio Mario Calabresi, insomma gli spunti che abbiamo dato fino a questo momento, che suggestioni ti rilasciano? Chiaramente abbiamo visto anche durante la pandemia, quando ci siamo tutti bloccati simultaneamente tra il 2020 e il 2021, i consumi naturalmente si sono ridotti consentendo a molte famiglie di continuare a risparmiare, adesso c'è anche questo aspetto, in un momento economico in cui tutto si è rimesso in moto, i consumi si riducono per effetto dell'inflazione, stiamo toccando anche i nostri risparmi, quindi davvero qualcosa sta cambiando. Peraltro tutto questo, come lo stiamo raccontando? Secondo te lo stiamo raccontando bene, quali sono gli aspetti a cui ancora non siamo stati in grado di dare la corretta descrizione? Intanto buongiorno a tutti, grazie. Io penso che ci siano una serie di aspetti della nostra realtà che non sono raccontati bene e che non fanno sufficientemente parte del dibattito pubblico e quindi anche del dibattito politico, sono fuori dall'agenda. Il tema che avete accennato e che avete affrontato, per esempio del divario che si crea nel carrello della spesa, del divario che si crea nell'accesso ad un cibo di qualità, è un tema pochissimo raccontato, che non viene affrontato. Questa polarizzazione di consumi, queste differenze, questo schiacciamento verso il basso di una quota di popolazione che cresce, questo non è un tema che noi sentiamo, non lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, non lo sentiamo nei telegiornali e se guardate all'agenda politica, al dibattito politico, non è un tema del dibattito politico. e dove si racconta questo? Lo si racconta soltanto nelle punte estreme, quando sono fenomeni che sono andati molto al di là, cioè che cos'è che appare poi nel dibattito pubblico? Una fotografia che qualcuno scatta alla mensa della Caritas, all'opera San Francesco, al prefettorio ambrosiano e quindi improvvisamente, in questo caso Milano, poi l'Italia, la città scopre che c'è una fila lunghissima di persone che vanno a mangiare alle mense e lì partono i fenomeni perversi e nel dibattito pubblico e nel dibattito politico, cioè che è quello di ecco bisogna finanziare questi salvagenti di ultima istanza, anziché fare un altro tipo di dibattito, ma chi sono queste persone che sono in fila? Ma perché c'è una quantità che cresce di persone che hanno un problema nell'acquistare i generi alimentari? Cioè il dibattito dovrebbe essere ma perché c'è un problema di fare la spesa? Perché c'è un numero di persone che aumenta, che fa la coda e che poi si fa consegnare un sacchetto con della pasta, del riso? Il pacco alimentare stamattina Ferrella ha ricordato quanti anche come coppe avete distribuiti. Quello sarebbe il dibattito e invece se ne raccontano soltanto le punte e le punte che fanno rumore. Ugualmente c'è un altro tema che voi conoscete benissimo e che affrontate che è il tema dell'ambiente, della sostenibilità, del cambiamento climatico che ha due aspetti. O viene trattato in molti ambiti, in molti ambienti come quello che viene chiamato greenwashing, cioè qualcuno che non se ne è mai occupato e che improvvisamente un giorno decide di darsi una pitturata di verde e con questa si presenta sul mercato agli altri e dice ah ma io sono sostenibile, quando non lo è mai stato non si è mai preoccupato di territorio, di filiere eccetera eccetera. E dall'altro lato dove finiscono nel dibattito? Finiscono nel dibattito quando ci sono i ragazzi che bloccano una strada oppure che si versano, imbrattano un muro, si inversano il fango di fronte al senato e allora l'improvvisamente oddio questi ragazzi, senza porsi una domanda, senza dire ma quanto per esempio nelle generazioni più giovani il tema ambientale della sostenibilità è sentito? Quanto è reale? Quanto potrà essere negli anni che vengono un fattore che farà la differenza nelle modalità, nell'acquisto, nel modo in cui diventeranno consumatori o solo consumatori, nel modo in cui voteranno, nel modo in cui saranno cittadini, perché per esempio se voi vi interrogate per una persona che ha 50 anni come me, i temi ambientali sono temi di testa, sono temi in cui io ragiono e penso alla sostenibilità, all'impatto dei consumi e lo penso e ci ragiono. Per uno che oggi ha 20 anni sono temi di pancia, non sono di testa, sono la sensazione che siano fenomeni, che possono essere i fenomeni ambientali che abbiamo visto, come l'utilizzo della plastica, il packaging, il tipo di cibo, sono cose che invece ti prendono la pancia e che ti dicono che quello riguarda il modo in cui tu vivrai i tuoi prossimi anni. E quindi non è che hai così tanta voglia di dire boh vabbè e quindi trovi queste radicalizzazioni. Il problema è che si raccontano solo le radicalizzazioni, solo le punte. Se ci pensate questa cosa qua, succede anche perché il dibattito pubblico e il dibattito politico oggi sono molto più focalizzati sui temi civili che sui temi sociali. Questo non significa che i temi civili non siano dei temi fondamentali di dibattito. Però in questo momento il governo dibatte tantissimo sul tema della maternità surrogata, la maternità assistita ed è un tema di dibattito fortissimo come se fosse un tema che riguarda una grande quantità di italiani, quando riguarda dei numeri che forse non arrivano a 100 in tutto il paese, su 60 milioni di abitanti. E è passato completamente in secondo piano invece, qual è il tema? Quello dei diritti sociali. Cioè il tema delle povertà, il tema appunto delle difficoltà, il tema della disoccupazione, del lavoro, del problema dell'accesso, delle disuguaglianze. Questo è un tema che siccome è molto meno spendibile in una battuta, è molto più difficile da affrontare, è molto meno instagrammabile, perché non puoi fare una cosa che metti su Instagram con uno slogan, allora sono temi lasciati da parte. E allora noi ci troviamo invece in una situazione in cui si dovrebbero affrontare questi temi, che poi anche la politica ne avrebbe giovamento se li affrontasse in un modo più serio. Vi porto un esempio di un uomo conosciuto che era un sindaco di una piccola cittadina della Pensilvania, si chiama John Fetterman, ed era sindaco di un paesino che si chiama Braddock, che sta fuori Pittsburgh, ed è un paese dove c'era una ciaieria, questa ciaieria poi sostanzialmente ha chiuso, quasi chiuso, disoccupazione, delinquenza, eccetera. Lui è diventato sindaco, la ricetta del sindaco precedente era mandatici l'esercito per un tema di ordine pubblico. Lui ha fatto una serie di cose controintuitive, per esempio ha riaperto la biblioteca che era chiusa da 30 anni, e ha messo i computer, ha detto alla gente, lì potete andare a scrivere il curriculum, ci sono gli assistenti sociali, eccetera. A proposito di cibo, mi è venuto in mente prima mentre parlavate, lui ha fatto una cosa, si è reso conto che il tipo di consumo dei suoi concittadini era calato ed era diminuito tantissimo sulla frutta e la verdura. E allora che cosa ha fatto? Ha preso tutti gli spazi del comune, di aree dismesse e abbandonate, ha fatto una sorta di alleanza con un gruppo di pensionati, e ha aperto un sacco di orti urbani, e in questi orti urbani ha detto alle famiglie e voi potete andare, con un piccolo contributo, potete andare a prendere la verdura, potete andare a prendere i pomodori, potete andare a prendere le zucchine. Gli sembrava un matto e lui ha incominciato a fare campagna su questo. Beh, a novembre è diventato senatore della Pensilvania, contro qualunque previsione, perché dovevano vincere i repubblicani, ha vinto lui democratico, e ha vinto con una piattaforma completamente diversa. Questo per dire che se uno cerca di affrontare anche i temi sociali, poi non è che i temi sociali non paghino, i temi sociali, se affrontati realmente, paghino. Dove mi porta, scusami, mi sono un po' dilungato, questo tipo di analisi dell'informazione del resto, mi porta a dire una cosa, che però delle realtà come la vostra possono fare, e già lo fate su tanti temi, penso al lavoro che avete fatto sull'autismo, per esempio, penso a quante cose avete fatto sulla filiera, possono, in assenza di un dibattito pubblico, o di un'informazione che risponde e che affronta questi temi, lo possono fare le realtà come la vostra, lo possono fare le aziende, che possono decidere di affrontare il tema della responsabilità sociale, non come ci sono realtà che fanno, la responsabilità sociale è fare un'attività che poi serve da mettere nel bilancio e che quindi mette a posto tutti quei temi, ma affrontandoli come responsabilità sociale, che significa come realmente affrontare quei temi e mostrare ai cittadini delle strade diverse. Il vostro osservatorio, io penso, ho fatto dieci anni il direttore di giornale, e tu debba ratappati le orecchie, e ho presente quale sia la pigrizia dei giornalisti, per cui tutte le volte che ci veniva però, da qualcuno che non era un soggetto giornalistico, però un'analisi, per esempio, dei consumi, quello è qualcosa di benvenuto, un serbatoio pazzesco, fa informazione, fa dibattito, ma anche scegliere di dire noi facciamo una battaglia sul tema della sostenibilità, sul tema del carrello, sul tema del fatto che prezzo e qualità possono andare insieme, ma in modo anche, mi viene da dire, smaccatamente espresso, cioè di dire, noi facciamo questa battaglia, questa è una battaglia non sufficientemente discussa nel paese, noi la tiriamo fuori. Io credo che questi temi vadano affrontati perché sono il tema che dicevamo dell'impoverimento e della qualità, quindi della spesa, dell'alimentazione, del cibo, e il tema ambientale, sono i temi più profondi che oggi attraversano il paese e che non hanno più colore politico, nonostante la politica non lo capisca, non hanno più colore politico. A me ha fatto impressione, ho fatto un giro in un'area del Piemonte che vota tutta il centro-destra e il primo problema che tutte le persone mi dicevano era un tema ambientale di cambiamento climatico e mi faceva impressione perché pensavo se quelli di Fratelli d'Italia o della Lega che hanno preso i voti di questi sapessero che questi dicono e pensano cose che loro invece pensano che siano da dire a quei ragazzini che vedono come dei disturbatori sociali, forse si renderebbero conto che la società profondamente ha dei fiumi carsici che poi a un certo punto saltano fuori. Allora voi avete, secondo me, tutti gli strumenti, e già lo fate in grande modo, per interpretare invece quei cambiamenti e per mostrare che voi siete all'avanguardia nell'interpretare quei cambiamenti. Mauro Latini, la vedevo annuire più volte, grazie per l'applauso alle considerazioni di Mario Calabrese, mi viene da aggiungere tutti questi cambiamenti che abbiamo solo cominciato a descrivere per chissà quante altre cose possiamo ancora raccontare, sono destinati a diventare anche un po' strutturati perché non è che risolviamo adesso nel giro di qualche mese il tema dello scontrino sempre più ridotto, dei volumi sempre più risicati appunto che si registrano nei vostri canali, quindi ci sono veramente cambiamenti importanti dei quali la vostra industria deve prendere atto e deve coraggiosamente naturalmente affrontare. Ecco, che cosa, oltre a tutto quello che abbiamo già sentito questa mattina, in prospettiva, cosa pensate di fare per rasserenare anche la platea dei consumatori che sono per quello che riguarda voi in larga parte anche i vostri soci, avete una comunità molto partecipativa per cui sicuramente avete risposto ulteriori da dover garantire. Fino a questo momento, insomma, quali suggestioni ne sono particolarmente rimaste in mente? Beh, sì, abbiamo... Sì, abbiamo... È spento? È il mio, perché non ha... Grazie. Abbiamo sicuramente cose da fare, le stiamo facendo e abbiamo molte idee per farle, ma torno molto velocemente a alcune cose che sono state dette, perché si è parlato di inflazione, si è parlato del carrello, delle entità, ma bisogna... Io seguo il punto di Calabrese e cominciare a dire qualche verità in più. Le imprese le devono dire, ma l'informazione, soprattutto, qualche verità in più la deve dire, perché siamo tutti un po' condizionati, imprese, ma tutto sommato anche informazione, di seguire l'onda del momento che deve essere fatto, di recupero di positività, e a volte il recupero di positività non spinge a dire tutta la verità e di ricerca di audience da un lato e di consenso anche da parte dei clienti, nel caso nostro, dall'altro. E le verità sono, secondo il mio punto di vista, ulteriormente scomode rispetto a quello che appare dai numeri, perché se l'inflazione alimentare italiana del 22, per esempio, è un più 8, l'inflazione alimentare è un più 7, ma in realtà, io penso, qualunque persona che va a fare gli acquisti, in qualunque luogo vada, si rende conto che in realtà quel numero difficilmente corrisponde alla verità di quello che si trova nel carrello, per i motivi che anche lei ha accennato all'inizio di questa chiacchierata. Da un lato, in alcuni casi, anche per motivo oggettivo, i prodotti sono stati sgrammati perché si consuma meno, servono prodotti anche più piccoli, ma ogni prodotto che pesa meno ha un'incidenza più alta del costo dell'imballo, per esempio. Ma poi è stata fatta tanta innovazione da parte delle grandi multinazionali. vera? Sì, in altri casi un po' meno, dove su prodotti innovativi che sfuggono al confronto con l'anno precedente, perché l'inflazione si calcola negli alimentari stesso codice di quest'anno con il prezzo dello stesso codice prodotto dell'anno precedente. Se tu fai innovazione o cambi il peso, questo confronto sparisce. Quindi l'inflazione è fatta, calcolata, soltanto sui prodotti che rimangono uguali. Il che significa che se un'innovazione ha un prezzo più alto di 20, di 30, di 40%, quella nessuno la registra nell'Istat, nessuno. E sono numeri grandi. Quindi il carrello vero, quello profondo, quello che nelle famiglie diventa spesa quotidiana è diverso da quello che viene raccontato dall'informazione. qualcuno questa roba forse, ma non noi perché noi è un po' più difficile, dovrebbe iniziare anche a riflettere. E poi l'altro grande elemento, poi vengo subito alla sua domanda, come è fatta questa inflazione? Questa inflazione è iniziata nel 2021, prima della guerra, prima dell'aumento energetico, è iniziata con un'inflazione da crisi climatica, gli incendi in Nord America, l'alluvione in Germania che ha fatto alzare i costi dei prodotti chimici, la siccità in Australia, 21, 21, prima inflazione da crisi climatica. Quindi c'è una componente di questo dato inflattivo che deriva dallo stato del pianeta, da quello che sta avvenendo. e purtroppo l'ha sottolineato Becchetti, questa cosa qui io non so se è l'1% che stimano, speriamo che sia l'1%, speriamo che sia solo quello, perché in realtà sta procedendo. Quest'anno, anno 23, per la prima volta nel mondo che noi conosciamo dei prodotti alimentari, avremo ragionevolmente un prezzo dell'olio extravergine italiano uguale al prezzo dell'olio dell'estravergine comunitario comunitario o estracomunitario. Scusate, può sembrare una cosa tecnica però è importante, ve la voglio segnalare, è importante perché l'olio italiano è sempre costato molto di più perché è diverso, perché ha produzioni più piccole, la Spagna ha produzioni enormi, grandissime, ma in realtà la siccità spagnola che è il contraltare dell'alluvione italiana ha fatto sì che il prezzo dell'olio spagnolo è alzato incredibile perché ce n'è meno raggiungendo quello italiano. Quindi stanno avvenendo cose che non immaginavamo che potessero accadere e questo ci deve allertare tutti quanti dicendo un pochino di verità perché la verità sarebbe anche dire che la frutta ne abbiamo poca, non è buona e costa tantissimo, e non è perché siamo cattivi, è perché è avvenuto, sta avvenendo cose climate pesanti. Allora, la verità serve forse anche a condividere e a preparare le persone che il mondo che abbiamo davanti ha bisogno di un'assunzione di responsabilità diversa anche sul cibo perché perché il cibo e il pianeta sono assolutamente connessi in maniera molto diretta, molto stretta e sono connessi con gli elementi di giustizia dei diritti delle persone perché il cibo è qualità della vita, è benessere, è diritti per chi lavora ma diritti anche per chi consuma. Allora, servirebbe una grande presa d'atto di un modello di un equilibrio economico che non sta più in piedi in modo che si potesse con grande consapevolezza e attenzione cercare di portare un contributo verso un cambiamento maggiormente sostenibile rispetto alla situazione di oggi. Noi ci proviamo da sempre perché la storia di Coppe parla di ambiente di sostenibilità di diritti delle persone di qualità del cibo e di principio di precauzione andando a realizzare quello che possiamo i nostri prodotti a marchio Coop prodotti che hanno dentro quei contenuti valoriali che sono delle garanzie per i nostri clienti con un prezzo giusto lo diceva il presidente Ferré nella sua relazione noi mai abbiamo lavorato per il prezzo più basso di tutti perché questo significa andare a svilire il valore del cibo che non è merce ma è un diritto almeno noi lo intendiamo così ma perché il prezzo giusto permette anche di ricercare in un equilibrio difficile che giorno dopo giorno non ha mai pace ma che va sempre ricercato un prezzo giusto anche per chi produce per chi realizza prodotti per tutta la catena produttiva ed è la sfida enorme soprattutto adesso con questo mondo inflattivo però è davvero necessario che questo cambiamento veda inglobata nelle riflessioni di tutti le sfide del cambiamento climatico perché l'agricoltura che è alla base della qualità della vita di tutti noi è anche alla base di tanti disastri ambientali che stanno avvenendo il cibo impatta per il 70% dell'acqua consumata nel pianeta dove le produzioni animali hanno un peso molto rilevante il cibo impatta per il 30% delle emissioni di CO2 quindi insomma non possiamo non considerare questo elemento in maniera consapevole ma è vero calabresi che le imprese devono fare la loro parte ma se non ci sono le istituzioni che aiutano le imprese e aggiungo premiano anche i comportamenti virtuosi da un lato delle imprese ma anche dei cittadini che decidono di acquistare prodotti di un tipo piuttosto che di un altro difficilmente è una sfida che nei tempi che il cambiamento climatico impone ci fa un esempio in cui ritiene che vi manchi il supporto istituzionale beh il supporto istituzionale manca la cosa più macroscopica per l'Italia è l'illegalità l'illegalità imprese che si muovono nella legalità rispetto a imprese che si muovono in maniera molto sportiva insomma pensando al mondo delle produzioni l'illegalità è abbastanza diffusa il mondo dell'agricoltura il mondo dell'agricolo dei braccianti è l'illegalità non è che non si raccontino perché le storie di queste ne leggiamo tutti i giorni pure davvero non succede ogni anno quando arriva il momento della raccolta dei pomodori e sono diventati il simbolo dello sfruttamento ma è un falso assoluto perché fossero solo i pomodori c'è ben altro l'illegalità è una delle piaghe più gravi per un paese come il nostro perché le imprese cattive scacciano inevitabilmente quelle buone la concorrenza sleale nasce dall'illegalità e questo è un punto clamoroso ma aggiungo prodotti virtuosi che hanno al loro interno una filiera di un certo tipo certificata piuttosto che imballi che fanno parte di un ciclo di recupero delle materie prime virtuoso che sta alla base della lotta all'usegetta devono essere secondo il mio punto di vista avere una tassazione diversa invece che la sugar tax o la plastic tax in aggiunta bisognerebbe andare a premiare non a punire e poi a dare anche delle condizioni di acquisto migliori magari abbassando l'iva per i clienti che fanno scelte del genere ora questo purtroppo è stato quasi cancellato da questa inflazione macroscopica che ha messo sotto i riflettori prima di tutto il prezzo quindi siamo tutti combattendo per mettere a disposizione di famiglie impoverite prodotti a prezzi accessibili questo è l'emergenza numero uno ma nel retrocranio noi imprese e le istituzioni devono avere anche la visione prospettica la visione prospettica perché altrimenti quello che sta avvenendo con i prodotti agricoli quello che diceva lei è vero in Italia sono dieci anni che i consumi di frutta e verdura stanno diminuendo non lo dice nessuno se facciamo le indagini dei clienti tutti dicono ne consumano di più non è vero hai voglia a spiegare agli italiani noi con la radio facciamo un sacco di campagne anche dedicate all'educazione alimentare 5 porzioni al giorno di frutta e verdura ma da quello che ci racconta lei invece e quindi immaginiamo forse che non sarà solo un problema di costo ma proprio un po' di pigrizia è un problema di educazione alimentare e per fortuna che abbiamo la dieta mediterranea qui da noi e quindi già per definizione ci alimentiamo in un certo modo ma si dovrebbe appunto fare molto di più allora professor Becchetti abbiamo sentito Mauro Alatini che ci diceva le istituzioni per esempio non ci aiutano ad affrontare determinati problemi e quindi abbiamo dato una descrizione delle derive estreme del sistema abbiamo però anche tante best practice abbiamo l'agricoltura sociale nel nostro paese abbiamo il budget salute e tanti aspetti che lei mi ha anticipato che vorrei che condividesse con questa platea perché si fa presto a parlare di sostenibilità in Italia e di come sia difficile da parte di molte aziende appartenenti a tutti i settori economico produttivi affrontare questa sfida perché poi ogni azienda ricordiamoci che ha rapporti con mille fornitori insomma quindi non è esattamente facile effettuare questa transizione eppure abbiamo tanti buoni esempi nel nostro paese che anche in questo caso come diceva Mario forse andrebbe varrebbe la pena insistere per raccontarli un po' meglio però ci sono mi ricollego proprio a quello diceva Calabresi nel senso che questo è un problema molto più profondo è un problema di comunicazione e di politica cioè questa voi siete comunicatori quindi lo sapete la cattiva notizia ti dà di più la gente nel tempo libero si vuole rilassare faccio un esempio noi parliamo tanto di pensioni nel nostro programma e le persone pensano che prenderanno un assegno sempre più magro perché è l'Inps che si è fregata tutti i soldi senza capire dove stiamo andando con la demografia che siamo un paese sempre più vecchio l'aspettativa di vita e però ogni giorno la battaglia è sempre quella ma le convinzioni sono sempre altre però ecco dico bisogna cioè io sono anni che lavoro su questo tema delle buone pratiche eccetera e tra l'altro abbiamo fondato Next che è un'associazione di promozione civile che di fatto lavora con le 48 realtà più importanti del paese la Coppa ci sta dentro la Coppa è tutti e la Lega Ambiente gli sindacati eccetera il problema qual è io credo che ci voglia una vera e propria strategia che è questa ieri ero con un altro grande amico che fa questo in parallelo insieme che è simbola Ermede e Ralacci di fatto è la stessa cosa cioè noi dobbiamo cosa dobbiamo fare più che raccontare premiare al festival dell'economia civile premiamo le buone pratiche dobbiamo creare delle proprie comunità di innovazione sociale perché la forza di questo paese l'abbiamo sentito anche in questa relazione è la capacità dei cittadini di partecipare questo senso civico che storicamente ha costruito delle cattedrali perché la biodiversità organizzativa che c'è in Italia è favolosa c'è la cooperazione storica di consumo di produzione adesso ci sono tante altre nuove forme le cooperative sociali di tipo A e di tipo B le fondazioni di comunità noi questa mattina sul Sole 24 scriviamo dei distretti del cibo che sono lo stesso altri c'è una ricchezza di partecipazione e soprattutto c'è quello che noi economisti civili consideriamo fondamentale un'idea che il valore che va creato non deve soddisfare solo la massimizzazione del profitto degli azionisti ma è un valore che deve essere distribuito tra gli stakeholder qui si parla è nato soprattutto attorno al tema dei consumatori soci ci sono tutta una serie quindi questa è la caratteristica distintiva del nostro sistema economico che poi arriva anche alle imprese artigiane a tutto ora questa roba qui va comunicata in un certo modo ma soprattutto ripeto oggi è il momento di costruire delle grandi alleanze e io dico anche una cosa arrivo anche a livello politico qual è il rischio di questo paese il conflitto becero tra le parti che ci assorbe al 100% e che non ci porta da nessuna parte perché chi arriva la prima cosa che deve fare deve distruggere tutto quello che hanno fatto quelli prima per principio poi arrivano gli altri e si ricomincia quindi è una fatica di sisifo si rinizia sempre da capo allora c'è bisogno di una grossa base civile appunto simbola l'economia civile next eccetera che dice guardate questa è una via di senso unico di progresso la chiamo così adesso mi piace una via di senso unico di progresso sociale questa cosa è il progresso del paese come diceva questo tema è un tema bipartisan la destra la sinistra lo dovete fare ieri eravamo appunto abbiamo fatto la sessione faccio degli esempi le comunità energetiche le comunità energetiche è una roba che fa civismo supera il nimbi ci aiuta a diventare autoproduttori e consumatori senza intasare la rete elettrica eccetera ieri eravamo tutti quelli la comunità delle comunità energetiche c'era il ministro Pichetto Fradini abbiamo detto e qui torniamo al tappo della politica dov'è il tappo della politica io lavorando appunto con gli ultimi tre ministri dell'ambiente mi sono accorto di una cosa incredibile questo paese ha due ingredienti che sono favolosi le tecnologie il mondo va avanti il menu delle tecnologie ci dà già tutto per risolvere i problemi giustamente stanno diventando anche problemi di prezzi di qualità della frutta io ricordo quando ero ragazzo io non le trovo più le famose gocce d'oro quelle prugne bianche bellissime non si trovano mai la qualità della frutta sta peggiorando sempre di più quindi i prezzi eccetera quindi l'inflation è iniziata da prima abbiamo tutto per risolvere questi problemi abbiamo una straordinaria innovatività degli italiani io ho l'osservatorio delle comunità energetiche l'Italia ha già non è che lo Stato deve fare i progetti i progetti per le rinnovabili sono già tutti pronti cioè il paese ne ha fatti tantissimi parliamo dei grandi gli osciori 300 gigawatt a terna pronti per le autorizzazioni e i progetti di comunità energetiche sono migliaia dice bene il ministro dice faremo 20 mila speriamo che ci riesca 20 mila allora dov'è il problema il problema è il tappo della politica noi stiamo aspettando da un anno e due mesi di ritardo il decreto attuativo delle comunità energetiche è passato un anno e due mesi tutta la gente pronta a quei progetti gli manca il numerino per fare il business peraltro anche il PNRR che dava una certa spinta oggi leggevamo del 2% sulla giga allora il problema sono queste lentezze qui oggi ripeto sull'ambiente bastano tre mosse io ieri l'ho detto al ministro l'ho scritto Macron ha fatto la legge sui parcheggi parcheggi ne avete parlato poi prima parcheggi sopra gli 80 posti si mettono le pensiline così le macchine si riparano pure dal sole in Francia farà l'8% dell'energia francese e cui vale a fare 10 centrali nucleari e lo fai così pensiamo i costi quindi sono 3-4 mosse le aree idonee le aree idonee delle regioni autorizziamo un po' di questi progetti veramente è una roba di una banalità però ripeto quel livello allora noi che siamo la ricchezza civile di questo paese dobbiamo organizzarci ma l'organizzarci non vuol dire che noi poi abbiamo le nostre simpatie ovviamente non vuol dire mettersi a fare la battaglia ogni giorno politica no noi dobbiamo dire guarda questa roba è progresso civile si deve fare si deve fare questo si deve fare l'amministrazione condivisa che è un altro grande era molto bello sentivo parlare anche per migliorare il clima interno la coprogettazione la partecipazione perché poi dalla presentazione del presidente prendono fuori l'affresco di cos'è l'uomo cos'è l'umanità cos'è la persona è quella che cerca di pagare poco perché c'è il problema del carrello ma però è anche la persona è anche cercatrice di senso si esalta e si nobilita quando c'è una storia di quella persona che viene down che viene no quindi ecco il segreto poi delle cooperative di reinserimento lavoro è quello io ho conosciuto dei pionieri che hanno 20% di persone fragili dentro un'azienda e competono con i cinesi e fanno profitti ma perché? perché la motivazione va mille nell'ambiente di lavoro ci possono essere quelli che danno 100 e quelli che danno 10 che sono i famosi quiet quitters come si chiamano cioè dice io faccio non me ne vado non è great resignation però faccio il minimo per non farmi buttar fuori e allora invece quando scatta la partecipazione cambia il mondo allora ecco noi con Best Work Life li studiamo parlo di cose che ho visto quindi ripeto la persona è cercatrice di senso deve far la spesa e soprattutto ha bisogno di partecipazione e di relazione ecco noi possiamo mettere assieme tutte queste cose e veramente portare una cultura migliore in questo paese che diventa base per una realizzazione per un successo politico secondo me noi abbiamo il dovere di fare questo con questa strategia un po' fine che secondo me ripeto ci può aiutare viste le sabbie mobili della politica certo Mario proseguiamo queste riflessioni professor Becchetti aggiungendo anche il tema che tu prima hai toccato parzialmente ma che secondo me vale la pena scandagliare quello delle giovani generazioni che sono dei giovani consumatori e che magari in prospettiva vogliono lavorare in certi ambiti che rispecchino i loro ideali e magari vogliono diventare anche imprenditori seguendo lo spirito che abbiamo indicato fino a questo momento sono giovani generazioni che oggi per esempio una volta che si laureano non vogliono più l'auto ma sono i figli della sharing economy quindi davvero hanno una testa una sensibilità diversa rispetto ai consumi scendono in piazza per questi argomenti tu prima lo dicevi non so se ci avete fatto caso negli ultimi anni con la disoccupazione giovanile alle stelle su questo tema non sono andati in piazza ma ci vanno per il cambiamento climatico ci vanno per i diritti civili e quindi come consumatori li dobbiamo assolutamente guardare insomma in che modo ma intanto dico una cosa lei ha ragione a dire della politica e delle istituzioni temo però che se uno le aspetta non arriveranno mai ma infatti c'è questa inerzia di fondo positiva che poi va avanti indipendentemente dallo scenario politico di contorno mentre sono convinto che spesso si accodino ai buoni esempi quando capiscono che c'è qualcosa che funziona allora ci saltano sopra e mi piace molto quello che stava dicendo il professore sull'idea che se le persone vengono messe se i cittadini vengono in un certo senso positivamente sfidati a fare la loro parte a contribuire anche se questa se questa parte può fare una una può essere faticoso pensiamo per esempio al tema della raccolta differenziata dove la raccolta differenziata è ben spiegata e si ha la sensazione che abbia utilità allora la raccolta differenziata in quei posti funziona e le persone la fanno scrupolosamente io ho fatto la raccolta differenziata per un periodo a Roma ho vissuto a Trastele ma ascolta questo quando ero direttore di Repubblica ed ero andato appena arrivato a ritirare i sacchetti all'ufficio della nettezza urbana e avevo firmato e avevo incominciato a fare la raccolta differenziata sei mesi dopo sono tornato a prendere i sacchetti e ho firmato sotto la mia firma precedente cioè in sei mesi dal punto dei sacchetti io ero stato l'unica persona ad andare due volte allora avevo preso la cosa di chiedere in tutto il palazzo perché non li avevano ritirati e uno mi ha detto si affaccia alla finestra la mattina e guardi dove buttano i sacchi della differenziata io mi sono affacciato alle sei e mezza e ho visto che li buttavano tutti insieme e quindi mi hanno detto la differenziata si fa se ci credono tutti se no la fai tu ma non la fa il comune allora da questo punto di vista però ci sono tante sfide in cui anche sui consumi perché con una catena di distribuzione di grande distribuzione concorrente vostra a cui ho posto il tema di un eccesso di plastica nel packaging mi ha detto no ma la gente vuole comodità e non gliene frega niente e quindi noi mettiamo tutto in plastica in maniera anche molto energica io gli ho detto non sono convinto soprattutto non sono convinto che le generazioni più giovani non abbiano questa sensibilità se gliela spieghi e gli dici magari qui fai un attimo più di fatica ma ti porti meno plastica a casa io penso che se le cose sono spiegate hanno una narrazione corretta e vadano a richiamare qualche cosa vadano a stimolare un valore una sensibilità allora in questo senso fa la differenza io ho una una società una casa editrice che fa podcast e fa questo nuovo tipo di narrazione che è una narrazione orale vocale di racconto e nella mia società ho avuto la fortuna perché le cose funzionano bene di aver assunto nell'ultimo anno e mezzo 50 ragazze e ragazzi quindi tutte persone giovani la cosa che mi ha completamente stupito sono stati i colloqui con queste ragazze e questi ragazzi i quali ti fanno loro delle domande se io ripenso al mio primo colloquio di lavoro io non ho neanche osato chiedere quanto era lo stipendio perché per me il fatto che io prendessi quel posto di lavoro andavo a lavorare all'agenzia ANSA mi andava benissimo non è che ho detto ma devo lavorare a sabato la domenica cioè non ho chiesto niente io mi hanno detto che mi assumevano tra l'altro era per sei mesi e io ho detto sì grazie dove si firma adesso io trovo questi ragazzi questi ragazzi che inizialmente devo dire la verità un po' mi irritavano perché si sedevano e mi chiedevano che orari devo fare quanto smart working posso avere il sabato e la domenica lavoro mi posso organizzare da solo che tipo di prospettiva di lavoro ho qua dentro che policy avete sulla plastica giuro mi hanno chiesto sulla plastica cosa fate avete i boccioni dell'acqua io volevo dire scusi ma sono io che devo fare le domande a te non tu che devi fare le domande a me salvo il contrario siamo proprio vecchi e mi dai lo stipendio tu a me a fine mese ma visto che sarebbe il contrario però che cosa ho capito dopo il primo fastidio e smarrimento che ti chiedono di capire e di condividere un progetto comune quello che mi ha sconvolto di più era un ragazzo che deve fare delle musiche per i podcast il quale mi ha detto ma io devo venire per forza qui a lavorare e io ho detto beh non so vedi tu ti stiamo facendo un contratto e lui mi ha detto no perché io lavoro con la musica lavoro benissimo di notte lavoro negli orari in cui non mi disturbano non c'è rumore eccetera eccetera voi datemi le scadenze mettetemi alla prova mi date le scadenze vedrà che io rispetto tutte le scadenze effettivamente bravissimo poi però abbiamo creato un bel clima di squadra quello che diceva e alla fine vengono tutti in ufficio anche se potrebbero fare la metà del tempo smart working ci sono tutti anche creandomi un problema perché io avevo preso meno scrivani del previsto pensando un po' non vengono risparmio almeno sullo spazio invece adesso se vuoi nelle scuole ci sono un sacco di carrellini c'è un problema di spazio però comprendere le dinamiche che ci sono oggi che chiedono progetti condivisi una visione comune di dove va il futuro e che chiedono che queste cose vengano spiegate e vengano narrate allora secondo me anche dal punto di vista non solo politico istituzionale perché io ho la sensazione che se aspettiamo aspetteremo troppo dal punto di vista anche delle aziende delle società ci debba essere oggi un tipo di visione di narrativa condivisa di patto generazionale che guardi e che dia risposte a questo tipo di problemi allora se si danno risposte a questo tipo di problemi allora secondo me anche è anche un successo non solo per la società ma per le aziende stesse Maura Latini allora sul tema delle giovani generazioni potremmo aprire un dibattito che non finisce più però stavo pensando a quello che è il ruolo di interlocutori come siete voi appunto che uno potrebbe dire vado al supermercato al supermercato della copp che mai dovranno fare gestiscono rapporti con dei fornitori arricchiscono con le loro referenze appunto i vari scaffali del supermercato in realtà il vostro lavoro è immenso di appunto intanto cercare di individuare la visione possibile da proporre alla comunità di riferimento individuare i nuovi trend le risposte da dare affrontare i problemi come quelli tremendi che abbiamo in questo momento perché noi qua siamo sicuramente sereni ma lo scenario è davvero complicato anche alla luce di quello che sta accadendo nelle ultime ore dove c'è il conflitto che è un focolaio aperto e che ci tiene molto nervosi un occhio alle giovani generazioni ai quali comunque alle quali dobbiamo trasmettere in ogni caso messaggi positivi perché non dobbiamo solo consegnare loro una visione piena di problemi non prenderai mai la pensione non avrai mai un lavoro a tempo indeterminato e in realtà sono giovani generazioni molto responsabili con una visione molto precisa ecco voi come vi interfacciate ai giovani in termini di nuove proposte come occupazione nei vostri nei vostri ambiti come consumatori insomma come guardate a questo scenario che cambia dei quali questi ragazzi del quale appunto questi ragazzi sono protagonisti e anche proponenti di sfide le giovani generazioni sono essenziali da 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 conoscere e da avere all'interno dell'azienda perché sono i migliori interpreti di loro stessi dei loro bisogni delle loro necessità perché pensare ai ragazzi di vent'anni pensando a quello che serve a loro senza neanche interpretarli comincia a diventare una presunzione come minimo e comunque anche da un punto di vista di potenzialità dell'impresa è quanto di più sbagliato ci possa essere quindi è fondamentale nella relazione con il lavoro sta avvenendo esattamente quello appena descritto Calabresi esattamente uguale con un aggravante nel caso nostro che le nostre la nostra attività principale vedono un orario di lavoro esteso vedono il sabato e la domenica come giorni di punta e quindi non è semplice dare risposte a chi giustamente ha esigenze e ambizioni anche di lavorare da casa anche il tema dello smart working un po' di chiarezza bisogna farlo laddove si può fare va fatto ma ci sono dei lavori che con lo smart working non si possono ahimè o per fortuna non so realizzare quindi si torna sempre su una narrazione che ha bisogno di trovare anche un equilibrio perché rappresenti la vera realtà se no si finisce che anche chi lavora nel mondo della logistica può pensare di fare lo smart working da casa e purtroppo non lo potrà mai fare ma a parte questo che è più un aneddoto che altro noi stiamo cercando da tempo di lavorare molto per rinnovare i nostri negozi Ferré anche in questo caso ha fatto sceni importanti nella sua relazione in modo che siano dei negozi che parlano anche un linguaggio che si avvicina alle delle nuove necessità e attraverso i nostri prodotti i nostri prodotti a marchio Coop che oramai da più di due anni abbiamo deciso di ridisegnare completamente ma estetica significa sostanza profondità analizzare le categorie vedere in ciascuna categoria di prodotto quali sono le nuove esigenze e parallelamente le nuove esigenze delle persone e parallelamente quali sono le innovazioni che stanno arrivando perché l'innovazione tecnologica ma l'innovazione di segmento sta facendo emergere nuovi prodotti con dei contenuti di servizio importanti e l'innovazione sui fronti del packaging perché il punto del packaging dell'attenzione al riciclo dell'attenzione all'ambiente alla riduzione degli sprechi che è fatta di progettazione del prodotto è uno dei grandi punti che i giovani segnalano continuamente perché hanno una maggiore consapevolezza di quanto le nostre generazioni hanno tendenzialmente di quello che sta avvenendo nel mondo e di come si possa intervenire anche attraverso i propri atti i propri atti di come ci muoviamo come acquistiamo come recuperiamo i pack dei prodotti e per noi questo è molto importante perché considerate che nei supermercati cop che sono una parte grande della distribuzione italiana ma solo una parte noi abbiamo 10 milioni di clienti a settimana il che significa 10 milioni di persone che scelgono cosa comprare che si portano a casa un contenuto di prodotto e un contenitore che poi da qualche parte deve finire e noi siamo una parte quindi si tratta di prodotti e di scelte delle persone e di azioni poi di fine vita per esempio del pack che cambiano come diceva anche Calabresi le cose è vero le cambiano le cose ma se poi quando si va alla raccolta differenziata quei prodotti smaltibili non non trovano altrettanta coerenza nelle utility che questi prodotti li prendono poi vanno a finire tutti nel termo valorizzatore quindi ecco la congiunzione tra il mondo del largo consumo e cop c'è ci sarebbe per interloquire in maniera anche prospettica con le istituzioni e le istituzioni diventano indispensabili perché il lavoro propositivo che stiamo facendo con i nostri prodotti a marchio potrebbe trovare moltiplicazione in questa reazione quindi questo lavoro sul nostro prodotto a marchio cop è la chiave che noi stiamo utilizzando per mettere a disposizione anche delle giovani generazioni perché parallelamente le categorie più fragili sono chi ha problemi economici e spesso sono gli anziani e i giovani che spesso hanno lavoro precario mettere a disposizione prodotti di livello di grande qualità innovativi in grado di rispondere alle necessità di oggi ma a un prezzo accessibile e questo però non è tutto perché questi prodotti hanno bisogno anche e ce l'hanno un cambio di passo dell'informazione come raccontiamo questi prodotti come facciamo a trasferire quello che di più e di diverso e di cambiamento è stato introdotto sono tendenzialmente i nostri prodotti che vengono da imprese produttive italiane siamo con percentuali altissime e se parliamo del cibo ci tengo a segnalare anche questa cosa i prodotti a marchio copp hanno della parte alimentare quasi la metà provenienza da filiere controllate che significa che tutto il ciclo produttivo è controllato insieme alle imprese che li producono andando a lavorare per migliorare l'impatto ambientale la qualità dei prodotti la sicurezza con imprese piccole e medie italiane quindi una risposta diretta anche ai territori non abbiamo grandissime imprese abbiamo una relazione molto forte con le imprese piccole e medie e questo dà una forza molto rilevante a un tessuto italiano che è di grande livello ma soffre un po' anche di questa dimensione ma soprattutto soffre di una non sufficiente aggregazione perché per contrastare l'inflazione e la necessità di mettere a disposizione prodotti a prezzi ragionevoli per tutte le classi di reddito è necessario tutti insieme lavorare per fare efficienza allora volevo introdurre come tra gli ultimi temi adesso ho perso anche completamente l'ordine del tempo quindi ad un certo punto qualcuno verrà a dirmi taglia perché stiamo andando verso il finale però volevo no volevo richiamare invece un tema che ha che ha ricordato prima il presidente ferrenne la sua relazione ad un certo punto ha tirato fuori questa frase abbiamo affrontato un mercato spregiudicato introducendo anche la questione dell'e-commerce che è stata una grande opportunità una rivoluzione costantemente in corso perché insomma il modello Amazon non c'è bisogno che lo ritiriamo fuori sappiamo quanti problemi risolvi a tanti consumatori ma d'altro canto è anche un modello che non so fino a che punto potrà ancora ulteriormente essere sostenibile perché professor Becchetti tutti questi corrieri continuamente in circolazione determinano un impatto ambientale che secondo me ancora non è stato sufficientemente sollevato a noi piace tanto avere il bene a casa e poi facciamo 50.000 resi obbligando anche per un piccolo pacco questi corrieri a fare milioni di chilometri a volte anche inutilmente detto questo sicuramente però l'e-commerce in termini più generali è una grande opportunità per tante piccole aziende che magari non avrebbero modo di svilupparsi sul territorio non hanno l'opportunità di creare il negozio fisico quindi in realtà è un modello sicuramente da conservare ma magari da ripensare a che punto siamo del dibattito su questo modello? Secondo me siamo comunque andiamo verso un mondo multicanale nel senso che non c'è una forma di vendita che sconfigge le altre ci sarà una coesistenza io vedo che per alcune cose molto standardizzate molto penso che l'e-commerce è molto competitivo tipo se io devo comprare il bagno schiuma lo sciamo dico io in generale e allora l'e-commerce rischia di vincere invece vedo che appunto la grande distribuzione i negozi cercano e bisogna sempre investire su quello che l'altro non può fare quindi che cos'è la relazione il servizio a me colpisce il fatto che nei luoghi della grande distribuzione si cerca un po' di ricreare il banco del negozio poi fondamentalmente con quello che ti e quindi evidentemente tu offri qualcosa che l'e-commerce non può offrire non ti può dare poi dal punto di vista ecologico sicuramente la cosa che conta è quella che si diceva prima cioè il comportamento veramente che secondo me è veramente da censurare è quello della persona che prende una cosa cioè non puoi fare un conto e fai la spesa ma un conto e tu prendi una cosa quindi questo continuo prendere è veramente diciamo disdicevole ecco ecologicamente pesante però ecco tornando anche un attimo a una cosa che si diceva prima secondo me oggi è molto importante tornando al tema della persona cercatrice di senso saper raccontare il valore non solo economico che c'è dietro un prodotto viene in mente abbiamo fatto un lavoro proprio grazie alla coppa perché l'abbiamo fatto nei supermercati coppa in Toscana in realtà e dove noi abbiamo visto mettendo un cartello davanti ai prodotti vivi quando lei dice l'abbiamo fatto quante tante casacche indossa 5-8 anni fa è un lavoro di ricerca e poi è stato pubblicato su Locks for Ballet in economics and statistics perché era proprio un esperimento di campo dove su 10 supermercati un copp noi abbiamo messo un cartello per spiegare la scelta ecologica dell'acquisto di un prodotto vivi verde poi abbiamo messo anche la classifica Oxfam eccetera e abbiamo visto ovviamente misurando le scelte nei giorni successivi ci hanno dato tutti i volumi venduti di qualunque prodotto che era una quantità di dati mostruosa che ovviamente i supermercati hanno abbiamo il campione di controllo quindi anche quelli dove contemporaneamente stessi giorni stesse condizioni non c'erano questi cartelli e abbiamo visto che l'effetto è stato importante sulle persone quindi sono studi che si fanno questi quindi saper raccontare questo perché poi questa idea che la gente è vero c'è tutto ovviamente la persona che ha bisogno che cerca il prezzo minimo però attenzione perché l'essere umano c'è questa willingness to pay che è pazzesca io quando la gente mi dice sempre perché ovviamente io voto il portafoglio e quindi mi rompono sempre le scatole ma hard discount no guarda guarda bene le persone cosa fanno la gente è disposta a svenarsi anche se è povera per l'esclusività far vedere agli altri che c'è un tenore di vita elevato non è vero che cerchi sempre la cosa non parliamo del gratta e vinci del fumo e tutto quello che sia quindi la willingness to pay esiste ovviamente noi la vogliamo portare nella direzione della sostenibilità e nella direzione della motivazione del senso mi è venuta in mente una cosa anche quando parlavamo del lavoro è vero la sfida diciamo la sfida di Calabresi forse è più facile perché è un'azienda molto creativa rispetto alla sfida e alla grande distribuzione però io vedo che le persone cercano sempre quattro cose che devono trovare anche nel lavoro la partecipazione l'abbiamo detto la formazione cioè bisogna continuare a imparare qualcosa e anche secondo me la generatività dell'organizzazione in cui stai a me colpì molto una volta parlo di un competitor trovare davanti alla alla cassiera del McDonald la famosa foto del disegno dei bambini di Ronald McDonald che è il lavoro che loro fanno per finanziare l'ospis dei genitori e io mi sono domandato ma perché l'hanno messo lì secondo me l'hanno messo lì per la persona che lavorava lì anche cioè di dire io sto facendo un lavoro semplice diciamo ma io faccio parte di un'organizzazione che cioè volevano dare questa ricchezza di senso di quell'attività che quindi secondo me sentirsi parte di un'organizzazione e qui abbiamo sentito tante cose no? dell'impegno sociale ambientale è una cosa molto importante per chi lavora in un'organizzazione allora Mario stiamo andando verso le conclusioni che cosa cominciamo a raccontare la domani mattina di tutto quello che abbiamo sentito mi collego su due cose brevi uno effettivamente tu eri partita da da Amazon dalla distribuzione tra l'altro il fatto che il costo della carta sia schizzato è perché tu certe volte ti arriva un libro con una scatola che tu pensi non avevo comprato una bicicletta e invece poi dentro non c'è niente ma ti è arrivato uno scatolone e questa cosa qui però per esempio ha detto andiamo verso un mondo multicanale cosa che non era scontata soltanto poco tempo fa per esempio prendo il tema dei libri che a me sta molto a cuore il tema dei libri durante la pandemia abbiamo visto arrivare a metà del mercato era diventato di Amazon metà del mercato e si pensava che sarebbe stata una cosa ineluttabile che quindi per le librerie i giorni erano contati perché era una cosa ineluttabile invece siamo usciti dalla pandemia dal lockdown e quella cifra è calata di 15 punti è tornata ad essere un terzo e perché? perché le persone alla fine c'è una differenza tra comprare un libro su Amazon tu su Amazon compri un libro che già sai o che conosci non esci dall'algoritmo invece nella libreria tu vedi cose che non ti immagini parli con qualcuno vedi cosa acquistano gli altri vedi un consiglio non è che abbiano più tutta questa ascolta tocchi allora da questo punto di vista il fatto che ci sia un luogo fisico dove scambi esperienza se scambi esperienza perché cosa perdono che cosa sono più in crisi le grandi catene impersonali dove non c'è mai un rapporto umano dei luoghi in cui viene ricreato o si sforza di esserci un rapporto umano là dove c'è le cose cambiano inclinazione e funzionano allora in questo è importante proprio mi colpiva questo esempio dei cartelli che spiegano perché se si fanno narrazioni si spiegano le cose allora accadono anche fenomeni che altrimenti non ci sarebbero e non bisogna mai dare per scontato niente mai dare per scontato no ma le persone capiscono la differenza tra questo e quello no partiamo sempre da un presupposto i consumatori i cittadini non sono tenuti a sapere nulla di pregresso a capire nulla sono hanno diritto al fatto che le cose vengano spiegate che gli si dica questo è diverso da questo qui dietro c'è questo lavoro questa filiera significa che questa cosa qui arriva da un luogo vicino che questa cosa qui è stagionale che questa cosa qui fa una differenza ma espresso nel modo più incisivo possibile e queste sono cose che fanno la differenza assolutamente no hai fatto bene grazie a tutti ci lascia con un messaggio finale da regalare anche a questa platea di vostri soci impegnati ad approvare oggi tutti gli addempimenti appunto sociali ma andiamo a parlare anche con una platea di consumatori e di vostri interlocutori diretti quotidiani beh il negozio fisico per Coop non è solo un negozio dove si scambia merce e anche informazione il negozio fisico è l'espressione massima della cooperazione di consumatori che è nata proprio per mettere a disposizione quasi 200 anni fa prodotti migliori all'epoca ai lavoratori dell'industria nascente della rivoluzione industriale quindi per le cooperative i negozi sono la vita questo non significa che l'online non debba far parte anzi gli servizi le opportunità la possibilità di scelta data dalle vendite online deve far parte del negozio del futuro deve far parte come sta iniziando a far parte della nostra messa a disposizione dei nostri soci e dei nostri clienti la possibilità di scegliere l'online anche nel mondo dell'alimentare ha avuto quella flessione che non era prevedibile durante il periodo della pandemia e questo ci fa capire che ancora c'è da trovare la strada giusta noi abbiamo molte sperimentazioni in corso in Lombardia ma anche nelle altre cooperative su come mettere a disposizione questa facilitazione a disposizione dei clienti però in realtà io penso davvero che la grande differenza la faranno i colleghi che lavorano nei nostri negozi i nostri negozi sono dei presidi nei territori presidi di socialità presidi di relazione e presidi di informazione che devono avvenire anche ridisegnandoli come sta avvenendo nelle nostre cooperative è una chiave di innovazione però la grande sfida è avere dei colleghi nei nostri punti vendita che parlano il linguaggio delle cooperative il linguaggio delle sfide e delle opportunità che le nostre cooperative mettere a disposizione di soci e clienti quindi lavorare sui servizi ma su una grande qualità umana rappresentata dai nostri colleghi che ogni giorno tengono una relazione con soci e clienti questo è il nostro futuro noi abbiamo parlato di tanti argomenti questa mattina magari saltando un po' anche di palo in frasca ma speriamo di avervi regalato dei momenti di riflessione interessanti appunto per poter portare avanti la vostra attività quotidiana grazie a Mario Calabresi a Leonardo Becchetti a Mauro Latini grazie grazie a voi e naturalmente in bocca al lupo a tutti per la vostra attività grazie grazie